27, 28 e 29 luglio. Ecco le tre serate ad ingresso gratuito che confezioneranno la 51esima edizione dello storico festival Gallo d'Oro con Proloco e Comune di Petriano da oltre mezzo secolo impegnate nel lanciare giovani talenti. Tre serate sul palco di Via Cavour di Gallo di Petriano che saranno interamente riprese dalle telecamere di Rossini TV. Si comincia giovedì quando per la prima volta in assoluto andrà in scena il Galletto d'Oro, esibizione canora dedicata a 12 bambini. Una serata condotta dagli attori della compagnia dialettale del Gallo con ospite Davide Scavolini che presenterà il suo ultimo singolo Il tuo modo di volare. Venerdì sul palco salirà invece l'imitatore di successo di tale quale show Antonio Mezzancella presentato da Manuelita Cialdini. Venerdì in cui sarà proiettato anche il trailer del film con Giorgia Righi ancora volano le farfalle. Sabato 29 luglio è la serata della gara Canora. Dalle ore 21 la direttrice di Rossini TV Emanuela Rossi presenterà i 23 cantanti selezionati che sotto la direzione musicale del maestro Stefano Venturi potranno vincere il premio del brano inedito assegnato da Emanuele Sciarra, i tre premi del podio del Gallo d'Oro e il premio Borgo Incanto. Nella serata che avrà come ospiti la signora Coriandoli e la banda musicale di Fossombrone, i partecipanti verranno giudicati da una giuria d'eccezione. Raffaella Misiti, vocal coach nella scuola Amici di Maria De Filippi, Chiara Tortorella, speaker di Radio 101 e il produttore discografico Massimo Di Muro. Un sabato che alle ore 14.30 sarà preceduto dal vocal coach Emanuele Sciarra che terrà un laboratorio di scrittura per esso il centro civico di Gallo di Petriano. Si potrà partecipare prenotandosi al 329-62-41966.